Arriviamo in suspense, è un fornetto elettrico 2097 Eccolo, Filippo, bene bene Sospanze Allora, non abbiamo i tamburi, abbiamo questo Quella Allora, il premio numero uno è un televisore Schermo piatto, offerto dal circolo Amici di Chiusani Il numero 2939 2939, chi ce l'ha? Vale, bene, un applauso Valentina Dai, complimenti Allora, abbiamo finito anche quest'anno la lotteria Niente, abbiamo santificato ancora la nostra festa patronale Il prossimo appuntamento è alla Sagra della Castagna Allora, non so